Su segnalazione di Polizia Municipale di Naro e Polizia Provinciale, i tecnici dell'ARPA nei giorni scorsi hanno effettuato le analisi delle acque del fiume Naro. Nello specifico, i liquidi sarebbero stati prelevati nel tratto compreso tra la diga San Giovanni e il depuratore di Canicattì. Preoccupanti sarebbero i risultati delle analisi che evidenzierebbero elevati valori di azoto ammoniacale e batteri fecali o meglio fogna. Sarebbe interessante comunque conoscere anche il livello di inquinamento alla foce del fiume, ovvero a Cannatello. In mattinata la nostra truppa ha percorso un tratto del corso del fiume, ci siamo recati in Contrada Malvizio e nella zona Lucia. Ai nostri obiettivi non è sfuggito il colore anomalo delle stesse acque, così come i nostri operatori non hanno potuto fare a meno di respirare i forti odori nauseabondi sprigionati. Ma oltre alle contaminazioni con liquami fognari, sono visibili a tutti le discariche pericolose sorte nei pressi del corso d'acqua. Quintali e quintali di materiali abbandonati indisturbatamente in un lembo di territorio che tra l'altro è intensamente sfruttato dall'agricoltura. Alle discariche abusive abbiamo dedicato innumerevoli servizi giornalistici, spesso abbiamo anche definito incivili i responsabili di questi scempi. Fortunatamente, da poco o più di un anno, grazie all'introduzione dei reati ambientali, la legge ci consente di poterli chiamare delinquenti. In Contrada Malvizio, come ricorderete, negli anni scorsi anche la procura della Repubblica di Agrigento si era interessata del sito, ordinando il sequestro dell'area. Da allora però, sigilli a parte, questi incivili hanno continuato a scaricare e incendiare ogni genere di rifiuto, arrecando in questo modo danni irreversibili all'ambiente. Da come si vede dalle immagini, l'alta quantità delle guaine plastiche e dei cavi elettrici farebbe pensare anche ad un punto di ritrovo per ricettatori di rame. Naturalmente non sta a noi investigare su chi e come commette questi delitti. A queste persone, se così possiamo definirle, vogliamo solo dire che questo loro comportamento nuoce alla salute della collettività e quindi anche alla loro e a quella dei loro familiari.